Stasera ho l'onore di avere in collegamento da Napoli l'ex pugile, attore e scrittore, campione olimpico di Pugilato a Mosca 1980, campione europeo EBU nei Superleggeri e Perper e campione mondiale da WBA nei Superleggeri, Patrizio Oliva. Buonasera signor Oliva. Buongiorno, buonasera, eccomi. Allora signor Oliva, sono in collegamento con lei proprio per parlare della sua carriera e cominciamo proprio dai tempi in cui tu eri il ragazzino, hai raccontato tante volte in televisione che appunto sei di Poggio Reale che è un quartiere di Napoli e hai raccontato che purtroppo tu come tante persone provieni da tanti episodi brutti, familiari, economici, ma nonostante ciò hai raggiunto questo grande sogno, ovvero quello del Pugilato. Ma in quei casi tu dove e come hai trovato la forza per andare avanti a realizzare questo sogno? Beh, innanzitutto la passione per questo sport, perché quando c'è passione in ciò che fai non ti costa fatica, perché è una tua scelta, è una scelta di vita. Io mi sono innamorato di questo sport da bambino, quindi proprio folgorato dal gesto motorio che i Puggi facevano vicino al sacco. Mio fratello Mario che prima di me faceva il Puggi mi portava in palestra, la sua palestra, e io mi tendo i Puggi a allenarsi vicino al sacco, in palestra, facendo anche sparring, mi sono innamorato letteralmente di questo sport. E capì immediatamente che quello è il mio destino, io dovevo fare il Puggi a tutti i costi. E così è stato, l'ho fatto con tanto impegno, con tanta fatica, perché io mi facevo anche il tratto da dove abitavo io, via Stradera Poggio Reale, fino a via Roma, a piedi perché non tenevo neanche i soldi per comprare il biglietto dell'autobus. Però dico sempre ai ragazzi che non mi sono mai stancato nel fare quel tratto, perché io davanti agli occhi avevo il sogno che facevo tutte le notti, quello di diventare campione olivo, perché io quando ho cominciato a fare questo sport ho cominciato subito a sognare con la mia testa, perché io sono uno che ha molta fantasia, vola sempre con la fantasia, nei sogni e mi da solo, mi mettevo davanti allo specchio e mi proclamavo già campione olimpico e il campione del mondo. E quindi questo si è avverato e quindi è la testimonianza che quando tu credi in quello che fai e ci credi fermamente, le cose possono succedere. Non è che succedono per forza, ma sicuramente hanno più forza che possono avverarsi. Ma visto che tu, come hai raccontato anche tante volte in televisione, provieni come hai raccontato appunto tante volte da dolori, da brutti episodi, il pugilato è stato anche un modo per sfogare giusto tutti questi problemi. No, ma io devo dire che non è stato una forma di riscatto, per me la bocca, se non è stato il fatto che venivo dalla fame, venivo dai grossi problemi, un padre violento che scaricava la violenza su mia madre, la morte di mio fratello prematuro a 15 anni quando avevo 12. Diciamo che ci sono state delle motivazioni, soprattutto quello di fare una promessa a mio fratello sul letto di morte e tutto ciò che io avrei fatto nella bocca l'avrei dedicato a lui, perché la sua vita doveva rinascere il nemico Antonio, in poche parole. E quindi queste motivazioni mi hanno portato a superare tutti gli ostacoli, le fatiche, però non è stata una forma di riscatto, devo dire, è stata la forte passione e l'amore che mi ha preso per questo sforzo. Ascolta, Patrizio, ti chiamo Patrizio perché ho detto che ci possiamo dare del tuo, ascolta ci sono delle persone, e io non lo condivido assolutamente, che credono che la figura del pugilato, la figura del pugilato rappresenta qualcosa di violento e cattivo, vuoi mandare un messaggio al riguardo? Perché io non sono assolutamente d'accordo con questa affermazione. Ma sono persone che parlano e non riflettono, non conoscono le cose, parlano tanto per parlare, come è successo ultimamente nell'episodio di Ragazzino Willi, quando il direttore della stampa ha detto che gli sportacombattimenti devono essere aboliti, le palestre chiuse, cioè soltanto un pazzo può dire una cosa del genere, non esiste. È difficile, quelli sono degli episodi che sono criminali e basta, non vengono paragonati, non vengono classificati sportivi, quelli sono dei criminali che vanno in palestra per fare qualcosa, non è che sono degli sportivi che fanno quell'attività sportiva, perché è difficile vedere un atleta da sportacombattimento che litiga per strada. Non lo fa mai, io nella mia carriera non ho mai litigato per strada, perché sono consapevole che i miei puni diventano delle armi, sono super consapevole. Proprio per questo, per strada, non litighiamo mai, evitiamo, io mi sono preso pure di vaffanculo, non ho mai reagito perché dico, ma chi se ne frega, non vado a rovinarmi la vita per un imbecille. Questi qua sono quegli esaltati criminali nella vita, perché quattro che si mettono addosso a un bambino, ma al di là che vai in palestra a fare sport, non lo fai, fai pugilato, fai MMA, qualsiasi disciplina sportiva, ma sono dei criminali nella vita che non vanno assolutamente messi catalogati atleti o sportivi, non esiste al mondo, quindi sono criminali, stop. Ascolta, piccola curiosità, tu devi sapere che io frequento le scuole superiore a Piedimonte Matesa e io so che tanti anni fa tu ti allenai a Piedimonte Matesa, che ricordo hai di quel paese? Hai avuto modo di ritornarci anche? Guarda, sono ritornato proprio ieri sera, ieri sera perché io sono molto amico con Sonia Palmieri, la candidata alle regionali, è una mia carissima amica che oggi è ancora assessore regionale al lavoro, al personale, ma siamo molto amici e quindi ieri siamo stati a cena insieme quando andavo a trovarla. Sì, a Piedimonte Matesa la ricordo con affetto perché io mi sono allenato quando diventavo a Campione d'Europa, ho preso la decisione e io mi ho allenato a Genova perché la palestra la tenevo lì, però quella volta io decisi che se avessi voluto diventare a Campione d'Europa avevo bisogno di altro, di nuovi stimoli e me ne andavo a Piedimonte Matesa perché volevo stare nella mia terra, nella mia regione e andai da Giuseppe Corbo, la pugilistica di Matesi e mi allenai, mi allenai là e feci bene perché poi diventavo la Campione d'Europa. Ascolta, consideriamo un po' il mondo del pugilato, tu noti una differenza tra il pugilato di ieri e quello di oggi. Ma come tutte le cose c'è evoluzione in qualsiasi attività sia sportiva che lavorativa, letteraria, ci sono sempre evoluzioni. Il pugilato è migliorato nella preparazione atletica sicuramente, ma la tecnica possiamo dire che forse, no forse, sicuramente è meglio quella di 40 anni fa che quella di oggi che ci sono allenatori che non sanno neanche insegnare come si porta a un corpo. Prima c'erano veramente gli allenatori che sulla tecnica, forse non erano bravi come preparatori, perché non erano preparati proprio culturalmente. Oggi ci sono i preparatori atletici che molti di loro si atteggiano a essere anche allenatori di bocca e non capiscono niente e confondono le due cose. Una cosa è fare il preparatore atletico e una cosa fare l'insegnante perché il pugilato è un'arte e quindi l'arte bisogna saperla insegnare. E quindi, se invece le due cose si abbinassero, sicuramente viene fatto un bel lavoro. Ascolta, ma qual è stata la prima volta che tu sei salito sul ring? La prima volta proprio, qual è stata? 16 anni avevo. A livello agonistico avevo 16 anni quando ho messo i piedi sul ring. Però ero già in palestra da tantissimi anni, ma non avevo ancora il fisico formato per poter combattere. E quindi il mio maestro ti aspettò prima che io maturassi fisicamente. Allora, nella tua carriera sportiva nei direttanti, tu hai raccontato, in questo episodio molto interessante, che dei campionati europei di pugilato direttanti 1979 a Colonia ci fu uno scandaloso verdetto nei confronti di un tuo avversario che adesso è un tuo grande amico. Sì, fu un verdetto scandaloso perché lo dichiarò l'Europa intera. Sui giornali europei uscirono gli articoli sportivi, uscivano proprio con lo scandalo di quel combattimento. Ma poi anche il pubblico in sala, nel palazzetto, testimoniò la contestazione di quel verdetto. sennò buttarono il ring di tutto, bottiglie di birra, lattine, interruppero l'inno sovietico sul podio per la protesta. Quindi la testimonianza la diede proprio il pubblico. Però io davvero sportivo accettai anche a malincuore quella decisione dei giudici, perché io credo nei valori dello sport. Pensai che i giudici non erano in mala fede, avevano sbagliato. E invece poi sei più che purtroppo erano in mala fede, si erano venduti proprio i combattimenti perché un anno e mezzo dopo ci sarebbero state le Olimpiadi proprio a Mosca. Quindi molti di questi giudici, pur di essere convocati come giudici a Mosca, si vendettero ai giudici, ai dirigenti sovietici. Io aiuto il tuo pugile e tu mi fai venire come giudice alle Olimpiadi. E così fu. Però poi la giustizia ha sempre il suo corso, no? Quindi ci fu una vendetta straordinaria, devo dire, perché in casa sua, in finale proprio ai giochi olimpici, davanti al suo pubblico, io l'ho battito nettamente e vinse la medaglia d'oro. Credo che tu hai anche avuto un problema alla mano destra, giusto? Tutta la carriera professionistica io ho avuto un problema alla mano. Il primo colpo che portavo la mano si fratturava. Io ho fatto tutta la mia carriera professionistica con la mano sola. Questo lo usavo quando meno potevo, perché al primo colpo si fratturava, rimanevo con la mano aperta nel guantone e non avevo neanche la forza della tensione di chiudere la mano. Questa è la doppia ancora. E' stata una difficoltà. Eh, però è la doppia ancora di più la mia classe, perché io ho fatto, sono diventato campionato d'Europa, campionato del mondo con la mano sola. Ascolta, titolo italiano, titolo europeo e titolo mondiale, in quali eventi e contro chi hai vinto? Titolo europeo in due categorie di peso, eh? Superleggeri e anche Werther. Io ho disputato anche il titolo mondiale dei pesi Werther con l'ultimo incontro della mia carriera per sei punti come un grandissimo campione e poi sono l'ultimo incontro della mia carriera. Mi dirai che ero ancora campione d'Europa, volevo ancora difendermi il titolo, ma decisi che volevo dire basta. Ascolta, Patrizio, tra i tuoi vari premi e riconoscimenti che hai vinto, anche quello come miglior pugile ai giochi olimici, giusto? Cosa rappresenta per te questo premio? Eh beh, ma il premio più prestigioso che un pugile possa mai aspirare, perché il pugile è un trofeo che si dà, è una Coppa che in azzurta gira dal 1936 e la detiene la federazione per quattro anni del pugile che l'ha vinta. Io sono stato proclamato il miglior pugile, è un trofeo importante perché scelgono il migliore di tutte le categorie, quindi in quel momento tu vieni giudicato il miglior pugile al mondo, di tutte le categorie di peso della box. Scegliamo il migliore delle Olimpia, di chi è stato? E quella volta, nell'ottanta fu Patrizio Lino. Vogliamo parlare di quel giorno in cui tu hai partecipato alle Olimpiadi a Mosca, che era la ventiduesima edizione e vinto appunto l'onore olimpico, 1980. Quella fu un'olimpiade, tu sei giovane, però sei giornalista quindi la storia la conosci, quella fu l'olimpiade, la prima olimpiade, il primo boicottaggio, perché ci fu la guerra a prendere tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Quindi tutti i paesi che erano alleati con gli Stati Uniti non parteciparono a Mosca. Parteciparono tutti i paesi invece alleati alla Russia. L'Italia fece un discorso un po' ambiguo, devo dire. Noi non partecipammo come Italia, partecipammo come CIO. Quindi diciamo, la decisione italiana fu quella di non far dispiacere all'America, dicendo noi non partecipiamo come Italia, partecipiamo come sotto legge del con internazionale. E non fece dispiacere. Allora lui stia dicendo noi partecipiamo, però non possiamo partecipare come Italia, ma ci siamo. E quindi noi partecipiamo come sotto legge del CIO, con la bandiera dei cinque cerchi del CIO. L'inno sul podio non fu l'inno di Mameli, ma fu l'inno internazionale del CIO. Quindi si corse il rischio di non partecipare. Perché se l'Italia prendeva la decisione di, come tutti i paesi alleati all'America, di non partecipare, non saremmo, non avremmo mai potuto dire io vinto l'Italia dell'Olimpia. Non l'avrei mai potuto dire. Devo dire però che fu un'Olimpia per me difficilissima. Perché? Perché in quel periodo, nel 1980, le nazioni più forti al mondo erano l'Unione Sovietica e tutti i paesi comunisti. Quindi l'Unione Sovietica con primissimi in testa Cuba. Cuba è stato ancora oggi il paese più forte nella box. E quindi partecipare nei paesi più forti all'epoca erano Cuba, Unione Sovietica, Romania, Bulgaria, Polonia, Ungheria, Cieco-Slovaccia, Jugoslavia. Erano paesi dove tu non ti potevi proprio avvicinare. Perché? Perché erano i classici direttanti di Stato che avevano 300 incontri e ognuno di loro teneva 300 match sulle spalle. E tu ti presentavi con 20-30-40 match. Non avevi scampo, come è successo a noi ultimamente. I nostri russi, Gambarelli, hanno vinto perché sono bravi. Ma hanno vinto anche perché avevano un'esperienza dalle spalle enorme rispetto ai ragazzini che hanno affrontato. Per dirti, il russo alle Olimpiadi di Pechino o di Londra affrontò Wilder. Ma Wilder ne aveva 18 anni allora e il russo ne aveva 30. Credo che se oggi dovessero fare un confronto russo-Wilder non ci sarebbe confronto. Però il russo in quell'occasione lo battì perché, oltre alla sua bravura, aveva un'esperienza enorme di fronte a Wilder che era un ragazzino. Quindi in quel periodo dell'80 era così la situazione. noi, ragazzini, ci confrontavamo con Pucci che avevano 300 match e non avevamo scampo. E l'abbiamo dimostrato di essere veramente forti perché con pochi match alle spalle riuscivamo ad averla meglio su questi qua che avevano un'esperienza tripla alla nostra, quadricola alla nostra. Ascolta, ma tu durante la tua catena pugilistica c'è stata, diciamo, qualche persona che ha avuto sempre come un punto di riferimento per andare avanti e per non arrenderti mai, insomma. C'è stato qualche persona. Ma certo, nelle mie motivazioni c'è il mio fratello che morì a 15 anni. Io avevo promesso che tutto ciò che avrei fatto ero dedicato a lui. Quindi la mia motivazione è stata lui che mi ha fatto superare tutti gli ostacoli. Che mi rende una grande passione per il calcio, so. Lui era un grandissimo valutatore. Però il mio punto di riferimento nel pugilato era proprio il mio fratello Mario, l'altro che faceva il pugilato. Perché lui che ha capito che io ero un talento, capì immediatamente da bambino che io ero questo ragazzino che poteva diventare un grande campione. E quindi quando combattevo io avevo orecchio solo alla voce di mio fratello. Prima di combattere, come dice Mario, dove ti metti? L'ha ascoltato solo i suoi consigli. Che mio fratello tecnicamente era un super campione. Tu hai avuto anche una bella esperienza perché sei stato commissario tecnico della Nazionale Olimpica. Sì, sono stato commissario tecnico ad Attranca, presi dalla Nazionale due mesi prima delle Olimpiadi perché l'allora allenatore della Nazionale, Falcinelli, abbandonò la squadra due mesi dalle Olimpiadi, abbandonò la squadra. Se ne andò, questa squadra si trovò senza allenatore. La federazione, visto che i partecipanti erano quasi tutti napoletani, chiamarono me, sapendo che loro mi conoscevano, un grande campione come Patrizio Lio poteva essere come immagine, e il CONI accettò con grande piacere. Caspita, Patrizio Lio accompagna i ragazzi come allenatore, bravo, siamo contenti. E io così diventavo la federazione nazionale. Però l'ho visto chiaro e tutto. Io prendo un pacco confezionato. Non so dentro che ci sta. Lo aprirò ad attualmente e quello che ci sarà, ci sarà. Il mio lavoro si vedrà nei quattro anni che verranno a seguire, perché in due mesi prima delle Olimpiadi che speranze potevo avere anche io. Però si è visto bene nei quattro anni che ho lavorato con la Nazionale, la mia Nazionale diventò tra le più forti al mondo. Mi hanno un po' ricordato, sicuramente nei risultati. Molti miei ragazzi potevano vincere medaglie di valore più prestigioso, ma me li buttavano fuori perché noi politicamente non puntavamo niente come nazionale. Io so che tu sei anche molto attivo per i giovani, infatti fai parte di un'associazione Mille Colura insieme a Diego Chiusi. Io ora sono in palestra, vedo anche il banchetto della maglietta. Siamo in palestra, sono in ufficio in palestra. Sì, abbiamo questa palestra di Diego Chiusi dove facciamo tutte le attività sportive possibili e immaginari. facciamo tutto il fitness con le varie attività collaterale, spinning, pilates, TRX. Poi facciamo fuggilato, schermo, judo, karate, taekwondo, muay thai, kendo, winshu, le ragazze con il tessuto volante. Facciamo un po' tutte le attività sportive. Ma soprattutto facciamo praticare sport ai bambini che appartengono a fasce disagiate gratis. Vengono in palestra e fanno sport a noi gratis perché a noi interessa salvare i ragazzi dalla strada, insegnare i valori dello sport e farli crescere come uomini migliori da inserire nella nostra società. Poi adesso che tu stai portando avanti anche uno spettacolo diatrale dove racconti la tua vita, non solo da uomo, non solo da fuggire ma anche da uomo ed è diretto da Alfonso Postiglione. Sì, il regista è Alfonso Postiglione, l'autore dello spettacolo del mio nipote Fabio Rocco, l'autore anche del mio libro Sparbiero. Sì, parla della mia vita, la mia carriera di puggire e la mia vita da uomo. Ed è un bellissimo spettacolo perché è un grande messaggio che si deve dare ai giovani. Il mio spettacolo, per esempio, è un spettacolo che devono vedere assolutamente i giovani perché è una testimonianza ed è un messaggio che si dà ai giovani dicendo che anche se si proviene dalle macerie più totali della vita, tutti possiamo riuscire a raggiungere i nostri sogni. Basta crederci, basta lavorare perché nulla piega dal cielo. Tutto ciò che ho finito nella vita dobbiamo conquistarcelo con le mie mani, con le nostre mani. Quindi è un grandissimo messaggio. Io così ho fatto. L'ho conquistato con la forza delle mie mani e ho raggiunto i miei sogni. Ascolta, tu oltre al libro Sparviero hai anche scritto un altro libro tre anni dopo insieme a Max Formisano che si chiama KO Metti al tappeto i sette avversari che ostacolano la realizzazione dei tuoi obiettivi. Come nasce l'esigenza di scrivere questo libro? Perché Max Formisano è un grandissimo formatore, uno tra i migliori in Italia. Aveva sentito la mia storia, ci siamo incontrati, mi sentì parlare e lui disse Patricio, perché non facciamo una cosa insieme? Perché non collabori con me? Tu sei un grande motivatore, tu sei veramente straordinario quando parli. E io ho cominciato a collaborare con lui, adesso faccio il motivatore nelle aziende, nelle scuole e uso lo sport come metà fra della vita. E quindi ho anche quest'altra attività che faccio con grande piacere. Allora, tu hai partecipato nel 2015 allo show l'Isola dei famosi come concorrente e poi anche al programma televisivo Notti su Ghiaccio nel 2007, quindi anni prima. Quali ricordi hai soprattutto di questi due programmi che ho appena nominato e dove vorresti ripetere un'altra esperienza? Ma io ho sempre fatto spettacolo comunque, mi ha sempre affascinato il mondo dello spettacolo. Ho partecipato da Pugge a tutte le trasmissioni più importanti, a Domenica Inn, tutte quelle che si faceva sulla Rai o a Canale 5, ne ho partecipato un po' tutte. Sì, quella di Notti su Ghiaccio fu bellissima perché io non avevo mai pattinato su Ghiaccio, non sapevo neanche che esistivano i pattini su Ghiaccio, per dire. Però allora interessava molto il mio nome e mi miso addirittura un allenatore personale per farmi prendere le lezioni e mi regalò ucci quando mi venne a vedere la seconda volta e vedi che in tre giorni avevo già imparato a pattinare e lei fu felicissima. E così mi preso nella missione nel programma. Invece meno entusiasmante è stato l'Isola dei Famori, è stato deludente sotto il profilo umano perché ho incontrato gente che pur di avere un po' di notorietà si vendono anche la dignità. Io fui tradito, anche se una trasmissione è un gioco, per l'amor di Dio, però loro dimostrarono proprio di essere assetati di protagonismo, ma ti parlo proprio di attori o di quel conduttore adesso su Rai 1, come si chiama, l'ex DJ Diaco, Pierluigi Diaco. pure lui che diceva che era mio amico, che grande persona che sei, mi piacerebbe che tu vincessi l'Isola. Fu il primo a pugnalarmi alle spalle per farmi fuori. Gli altri due o tre attori si misero conto di me. Io dissi facciamo un'Isola che diamo un messaggio ai giovani che si può fare anche un spettacolo senza essere volgari, perché abbiamo visto in passato l'Isola sempre volgarità, parolacce, tradimenti. Io dissi facciamo un'Isola, diamo un messaggio ai giovani che si può fare spettacolo anche facendo le persone per bene, pulite. Sì, ci piace questa cosa, quindi votiamo non perché tu mi sei antipatico, ti voto perché non ti reputo idoneo alla sopravvivenza di un gruppo su un'Isola, no? Perfetto, decidemmo di votare due persone che si erano proprio estraneate dal gruppo e decidemmo di votarlo. Invece loro, quando capirono che io ero un pezzo forte che mi davano vincitore dell'Isola, perché pur proprio anche, lo diceva anche Signorini che mi dava come uno dei favoriti per il personaggio era, quando capirono questo, mi fecero subito fuori, mi pugnalarono alle spalle e mi nominarono e mi fecero uscire proprio alla prima puntata. Quindi non è un ricordo proprio piacere? No, perché ho visto proprio che pur di avere un po' di notorietà, e lo dico anche nel mio spettacolo, c'è gente che pur di avere un po' di notorietà si vende la propria dignità, no? Loro così fecero, per avere un po' di notorietà mi fecero fuori e io veramente mi sono proprio scaduto dal cuore. Ascolta, parliamo del Patrizio Livattore cantante, perché tu so che hai partecipato a vari film come per esempio Flauto e anche pubblicato per esempio negli Epi come Resterò qui. Ma tu fin da giovane hai sempre avuto, diciamo, la passione per la musica e la recitazione? Io ho sempre avuto la passione per il canto, ma da bambino. E l'ho esternato poi durante la mia carriera da Pugile, mi piaceva cantare, però non ho mai pensato di fare cantante professionista, per l'amore di Dio. Io lo facevo tutto per divulgare l'immagine del Pugile che nell'immaginario collettivo il Pugile è ignorante, rozzo, con modi non educati. Io invece volevo dimostrare che il Pugile invece è un personaggio come tutti gli altri che può fare il spettacolo, che invece mi diceva ma tu sei così elegante che non senti un Pugile. Io mi arrabbiavo, perché che volete dire? Che i Pugile sono malificati? Che significa? Assolutamente. Però invece l'attore, l'attore è una cosa che mi ha sempre affascinato. Io ho sempre, quando mi è stato proposto di cominciare a farlo, ho subito pensato che volevo farlo proprio a livello professionale. Sto avendo già bisogno di farlo perché i critici del teatro hanno espresso su di me belle considerazioni, devo dire. Ascolta, considerando anche la situazione coronavirus che come sai ha bloccato un po' tutto, mica puoi mandare un messaggio di speranza, puoi nominare qualche tuo progetto futuro e se vuoi mandare anche un messaggio a tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono raggiungere questo sogno quello del cucinato che appunto richiede impegno, richiede sacrificio. Ma, ragazzi, per quanto riguarda il coronavirus, non possiamo nascondere che abbiamo avuto una batosta, no? Io ho paragonato il coronavirus come un Pugile che ci ha messo alle corde, che ci ha messo in difficoltà, ci aveva messo al tappeto, però noi abbiamo la forza di rialzarci perché comunque abbiamo rispettato le direttive del governo, abbiamo fatto il lockdown, siamo stati attenti a metterci le mascherie, tutti i protocolli li abbiamo seguiti, mi sembra che ci siamo rialzati, però ancora in questo momento dobbiamo stare ancora con la guardia alzata, come dico nel mio spettacolo, gamba sinistra avanti, ginocchi piegate e puni in alto, significa che dobbiamo andare avanti, non dobbiamo ancora considerarci vincitori. Il coronavirus è sempre lì in agguato e dobbiamo tenerlo veramente sempre a base. Però dobbiamo essere residenti nella vita, non possiamo farci sempre prendere dallo sconforto, dalle tragedie della vita, non dobbiamo reagire, io sono uno di quelli che ha reagito su tutte le tragedie che mi sono capitate nella mia vita. Ho reagito, mi sono rialzato e ho preso di petto la vita, perché se ci piangiamo addosso non serve a niente, dobbiamo andare avanti, dobbiamo avere il coraggio di rimboccarci le maniche e andare avanti. Per quanto riguarda invece i giovani, i loro sogni, io dico c'è una massima che mi ha accompagnato per tutta la carriera, dice Dio dono il proprio cibo a tutti gli uccelli, ma non Dio lo metto nel limite. Significa che noi dobbiamo andarcelo a cercare, quindi significa che nella vita se vuoi ottenere dei risultati, devi lavorare, devi faticare, devi fare dei progetti a lungo termine, devi essere resiliente, devi saper superare i tuoi libri, devi superare il tuo ostacolo, devi fare dei progetti a lungo termine. Se non fai questo, chiaramente i risultati non arrivano. Patrizio, infine puoi nominare qualche progetto futuro che riguarda te, considerando sempre però questo problema del Covid, se hai qualche progetto in mezzo. Il Covid mi ha tenuto fermo, io avevo come progettazione nel periodo da marzo avvenito a questo periodo qua, avevo 8-9 spettacoli teatrali da fare, sono saltati tutti, ma come da tutti gli attori, non solo a me. Adesso spero che da ottobre si ricominci, a gennaio ho già programmato una tournée che devo fare in giro per l'Italia, e in più sto già preparando un nuovo spettacolo teatrale, un lavoro di Harold Finder, un bramadugo inglese, premio Nobel, e sono stato scelto come attore protagonista di questo spettacolo. Allora io ringrazio Patrizio Oliver per il suo tempo e insieme a una buona serata. Grazie a te.